ciao a tutti sono arrigo e vi do il benvenuto o il bentornato sul mio canale quest'oggi sono qui con luigi di non solo trash ciao per discutere su super mario bros il film pellicola del 2023 diretta da aron hervat e michael jelenic sì il film è una coproduzione tra nintendo e illumination studios il film è stato realizzato per il trentennale del videogame se non erro sì ed è la seconda trasposizione cinematografica dell'anonimo prodotto esatto perché la prima esistente era quella con il mitico bob hoskins e john le guisamo che ricorderemo tutti come uno dei peggiori film della storia del cinema perché è stato inserito tra tra quelli quello quelli erano il film in questione era del 93 e quindi erano anni in cui era difficile adattare su grande schermo un videogioco del genere che in live action difficilmente riesce a rendergli giustizia sì 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 illumination e nintendo sono riusciti a trovare un buon compromesso in computer grafica assolutamente qui arrivano subito i plausi perché l'aspetto visivo del film è qualcosa di spettacolare sì in effetti ho notato questa cura del dettaglio delle animazioni che non sembra neanche animato cioè sembra davvero fatto neanche animato sembra in motion capture ma non lo so non c'è più tanto cioè come posso dire non c'è più quella percezione che dici vado a vedere un prodotto animato vado a vedere un prodotto che sembra che comunque è molto molto fotorealistico voglio dire anche che ne so anche la pelliccia del cane che si sì 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 la cura del dettaglio con questa realizzata la computer grafica è maniacale subito fin dall'inizio con con l'inquadratura del re dei pinguini il minimo dettaglio sul sul pelo dei pinguini è una cosa spettacolare sì 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 infatti infatti fortuna vuole che mi sia trovato anche un posto in sala centrale che sono riuscito a cogliere tutti i piccoli dettagli proprio visivi dal punto di vista proprio di inquadrature tutto il resto che ho detto non sembrava nemmeno poi ho adorato anche alcuni momenti in cui c'erano dei piccoli piani sequenza cioè non me l'aspettavo in un prodotto animato come questo poi dopo tutto cioè non mi aspettavo parlare di piani sequenza in computer grafica un paroluro ah vabbè ah vabbè comunque comunque è regia nel senso voglio dire perché non c'è allora a questo punto dovrebbero levare la dicitura regia di aaron orvat e michael jelenic quindi sì ma sono tecniche diverse di realizzazione però vabbè non entriamo nel dettaglio che vabbè comunque è sempre comunque regia voglio dire c'è c'è uno storyboard dietro e sanno che quell'inquadratura deve essere in quel determinato modo e quindi in alcuni momenti ho notato un paio di piani sequenza comunque è ben fatti nonostante sia animato però insomma perché diciamo l'animazione non ha limiti all'immaginazione quindi puoi mettere la camera dove vuoi questo sicuramente questo sicuramente sì diciamo che il film ha dei pregi dei difetti dal mio punto di vista e corre che è una meraviglia perché dura un'ora e mezza si ferma un momento si 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 prende delle dovute libertà nella caratterizzazione dei personaggi perché diciamolo subito non è il classico videogioco dove mario deve andare a salvare la principessa ma qui peach viene sostituita da luigi sì esatto cioè luigi essere quello da salvare siamo di fronte ovviamente un prodotto destinato per i bambini con i tempi che corrono difficilmente si sarebbe potuto inserire un personaggio femminile debole però è anche giusto così nel senso che si distanzia dal videogioco e secondo me ma in realtà sì ma in realtà in effetti è quello che dico sempre anche io c'è nel senso non bisogna guardare questo prodotto e pretendere che sia identico al al videogioco perché sono due media completamente differenti cioè quello è ci devi giocare proprio tu cioè devi scegliere tu le le scelte che fa il personaggio invece qui devi soltanto subire gli eventi devi guardare il prodotto cinematografico perché è fruibile così quindi io purtroppo non potrò dire effettivamente se alcuni personaggi erano nel videogioco in un modo o nel film sono in un altro che hanno cambiato stravolto la loro caratterizzazione perché non sono un esperto non ci ho giocato mai però li conosco i personaggi non non ci sono mai andato a cena però li conosco mettiamo in chiaro che se noi ci riferiamo ai prodotti anni 80 non è che avessero caratterizzazioni era una platform in cui dovevi semplicemente andare avanti di piattaforma in piattaforma per salvare la sicurezza e sconfiggere il cattivo sì sì vabbè ma era ma era quello diciamo lo scopo di questi giochi qua facevi ricompiere un viaggio diciamo per salvare chi dovevi salvare tutto qui diciamo che in questo caso non mi è piaciuto il personaggio della principessa ma perché è perfetto è perfetto in ogni minimo dettaglio e non ha difetti suo personaggio super forte super intelligente emancipata io non capisco perché stia lì ma va bene discutevo con un amico perché l'avessero dovuta avere eletta principessa e non regina ma in effetti anch'io mi sono detto ma perché principessa e non regina perché comunque sta comandando lei lì vabbè comunque questo me l'ho chiesto anch'io un dettaglio il mio amico con cui parlavo mi ha detto che era stato spiegato in un film disney perché non venissero chiamate regine perché la regina viene di storico associata alla matrigna cattiva o al cattivo ah ok 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 poi non so se sia vero no il ragionamento no il ragionamento fila comunque c'è nel senso perché di solito è vero perché nel senso nei film della disney di solito la matrigna cattiva è sempre la regina di solito no basta vedere biancaneve quindi in ogni caso lasciamo da perdere questo discorso in ogni caso mi viene da chiedermi perché avessero dovuto eleggerla principessa dato che arrivava da un altro mondo l'hanno cresciuta io mi chiedo ma prima avevano un'altra principessa perché avevano bisogno di un sovrano come popolo va bene che lei diventa super forte super intelligente ok ma perché il loro popolo cioè io io penso che invece ci stiamo facendo troppe domande che il film doveva scorrere così e doveva essere così e basta giustamente allora il prodotto perché poi vorrei ricordare per quanto possa essere interessante per gli adulti che hanno giocato a questi giochi e che possiamo trovare noi adulti errori di continuità errori di qualsiasi cosa no anche di coerenza dei personaggi e robe del genere tipo anche come ho detto incongruenze soprattutto personaggi che fanno cose che dici ma perché fanno proprio questa cosa insomma queste robe qui che fosse un po' banale da quel punto di vista secondo me sì però secondo me non dobbiamo farci almeno per quanto mi riguarda non dobbiamo farci molte domande a riguardo perché si tratta di un prodotto per bambini ho detto ribadisco per quanto riguarda comunque anche piano però piano no dico è un film per tutti comunque voglio dire però piano con le parole film per bambini perché qui sembra sminuire un prodotto perché lo sto sentendo da tutte le parti piano sì il film è destinato a un pubblico infantile ok no ma infatti ho detto però bastava veramente poco ok bastava veramente poco per dargli quel cosa in più perché partiamo dal presupposto che questo è un film che si basa solo ed esclusivamente su citazioni la storia di base è veramente esile è praticamente inesistente ok io non dico che ci dovesse essere una sceneggiatura complicata per carità il prodotto di base funziona il problema è che non dà un minimo di spiegazione a quello che succede bastava veramente poco escluso il fatto vabbè qui io stavo scherzando sulla principessa per carità era giusto per ridere un attimo anche se non è vero ma ci sono tante situazioni che non vengono spiegate vengono buttate là solo per citare il videogioco perché io mi sono divertito tantissimo nella prima parte nella presentazione dei personaggi quello che è il primo atto però poi finisce lì se io con la seconda e terza parte mi sono annoiato perché la storia non ingranava ma io io personalmente non sono molto d'accordo perché secondo me il film è molto molto scorrevole e riesce a a meno personalmente mi ha intrattenuto dall'inizio alla fine non ci sono stati per quanto mi riguarda momenti di noia totale che mi sono detto quando è che finisce anzi io quando è finito detto no di già c'è nel senso mi aspettavo che durasse un pochino di più per quanto sapessi già che sarebbe durato quell'ora e mezza però secondo me è molto molto fruibile c'è nel senso nella sua durata nello svolgimento degli eventi sì ci sono un paio di momenti un po macchinosi nel senso spoiler la scena del combattimento tra donkey kong e super mario che è fatta soltanto probabilmente quasi sicuramente a scopo di fanservice però era anche perché comunque c'è la storia prevedeva che in questo caso in questo film che se volevano l'aiuto dei kong dovevano fare questa cosa capito cioè proprio come se fosse un videogioco quindi per questo motivo tu devi fare questa cosa se no noi non ti accontentiamo ecco e quindi ci sono situazioni un po forzate vero però mi aspettavo per esempio per esempio che nella scena in cui mario e donkey kong finiscono nella bocca comunque nello stomaco di questa creatura acquatica sott'acqua mi aspettavo che durasse molto molto di più io ho detto va a vedere che adesso si arena sott'acqua lì dove loro due cominciano a fare amicizia invece dura il minimo indispensabile perché servisse a entrambi capire che i loro rispettivi genitori non li apprezzassero più di tanto no e quindi per questo motivo dura quel poco la scena e poi se ne scappano subito quindi io mi aspettavo che durasse molto molto di più quella scena lì invece fortuna vuole che è durata quel minimo indispensabile problema tornando anche a donkey kong che l'hai citato per carità sì bella anche tutta tutta quella parte e anche se boh hanno ridicolizzato un po donkey kong perché l'hanno caratterizzato veramente davvero deficiente ai mai se ti incontro in originale se trojan e quindi bisognava un po' aspettarsi un tipo di personaggio del genere sì sì a parte il doppiaggio dico proprio come l'hanno realizzato perché nei videogiochi boh è un po' diverso non è che abbia questa grande caratterizzazione ma l'hanno reso davvero infantile lo so per carità va a gusti però boh a me ha fatto morire da ridere il cambio di voce che ha avuto nel combattimento adesso muori sì esatto che come sia esatto che c'era quel momento in cui adesso muori io penso che sia stata una trovata proprio anche per per far ridere anche di più chi guarda quindi non è una trovata divertente come tutti i film d'altronde l'uso secondo me anche l'uso sapiente delle musiche anni 80 tipo take on me nella parte di con chi kong o holding out for a hero nella scena in cui c'è mario che deve cercare di superare quel percorso ostacoli sono due momenti che mi hanno particolarmente gasato posso dire sinceramente no perché ecco un altro difetto adorando le canzoni sai sono canzoni triteri triteri le mettono ovunque ormai sono le solite non fanno non c'è un minimo sforzo di creare qualcosa di originale nuovo nel comparto musicale bellissimi le gli effetti sonori che riprendono ah sì quelli del videogioco sì quello del videogioco però a livello musicale canzoni buttate lì triteri triteri secondo me è buona anche la colonna sonora di brian tyler che ovviamente coadiuvata dal dall'altro koji kondo che era credo immagino quello che ha curato le musiche dei videogiochi di super mario credo quindi diciamo c'è questo connubio che comunque mi è piaciuto abbastanza nel senso sono buone musiche perché c'è nel senso guarda ascolterei la colonna sonora molto ben volentieri che ne so in un pomeriggio di nulla facenza quindi sì 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 diciamo che a livello visivo e sonoro è bello molto molto bello e che poi si ferma lì perché un'ora e mezza di pieni citazioni ed easter egg sui videogiochi è troppo secondo me io io sfortunatamente non ho colto ma me l'hanno detto poi dopo la parte in cui c'è tipo luigi che si perde in quella foresta oscura che personalmente mi ha ricordato la scena di biancaneve quando si perdeva nella foresta oscura nella foresta nera però in realtà mi hanno detto che era una citazione a luigi mansion che però è esatto però io non potevo coglierla perché giustamente non avendoci giocato non lo so però da quel che da quel che mi hanno detto alla fine era quella la citazione quindi ripetendo io l'ho visto da il film dal punto di vista di una persona che non è un grande appassionato perché non ci ha mai giocato a nulla però ho apprezzato diciamo dal punto di vista cinematografico come si è svolto e infatti mi aspettavo anche lì che la sequenza della foresta oscura lì insomma di del cattivone di turno di bowser fosse diciamo molto molto lunga come sequenza invece no durava quel poco indispensabile ripeto ci sono delle situazioni che mi aspettavo fossero un po più come dire annacquate invece no anzi le hanno proprio ridotte ed è secondo me è stato anche un bene così diciamo che tra virgolette anche molto molto forzato il fatto che nella nel regno umano no nel regno normale no della nostra umanità all'improvviso ci sia questo questi tombini che esplodono loro vanno andiamo noi a risolvere e poi finiscono il tubo e finiscono lì no nel mondo dei funghetti ok però è un po forzato se ci pensi no che diceva vabbè se non fosse se non ci fosse stata quella perdita loro non sarebbero finiti lì quindi esatto e qua arriva un'altra difetto se vogliamo dire che ho notato io non hanno un minimo di spiegazione di questa connessione tra universi dimmi perché questi universi sono collegati esatto no ma perché proprio nei tubi della città cioè perché proprio i tubi di san francisco e non che ne so di qualche altra città per dire no quindi non è un po inspiegabile questo dettaglio però va bene senso subisci gli eventi e apprezzi e continua a guardare però vabbè diciamo che anche lì l'ho trovato molto forzato ah finché saremo insieme che lo ripeto non all'infinito nel film finché saremo insieme non ci accadrà nulla e poi lui finisce nell'altro tubo lì e finisce nel nel mondo di bowser ecco io mi sarei io avrei preferito piuttosto che luigi fosse la damigella in pericolo sì ok che si rivedessero però che dassero anche spazio a luigi e in un'avventura tutta sua c'è un parallelismo tra mario e luigi che devono ritrovarsi ok così mi spiega anche il personaggio di luigi perché ovviamente luigi è messo ai margini non c'è spazio per lui a parte nel finale in cui combattono insieme però questo è un personaggio secondario poi vabbè mi fa un po ridere che alla fine dicono luigi sei sei molto coraggioso ma sei stato a urlare fino a due minuti prima come sei molto coraggioso sì sì esatto esatto non ha mai avuto un'evoluzione è successo in un momento soltanto alla fine perché era era stato super potenziato dal dalla scatoletta quella lì no quindi c'è un'altra cosa e capisco riparliamo è una citazione del videogioco il fatto della super stella ma sì cos'è e perché cercano questa super stella capisco che è una cosa che potenzia ma da dove arriva c'è un film che non dà un minimo di spiegazione agli eventi ma molto probabilmente perché posso alzardare un'ipotesi perché probabilmente vogliono fare a parte il seguito ma sicuramente vorranno farne altri più di uno un sequel ci sarà perché il film sta facendo successo della madonna sta sì 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 l'avevano già confermato se non sbaglio e ma è anche non c'è di solito la lumination non ha mai fatto flop epocali ma si sa quasi tutti i suoi film hanno avuto sequel e anzi tutti e quindi da questo punto di vista non c'è da preoccuparsi il problema è che se fanno un altro film con solo citazioni diventano noia mortale spero che nel sequel diano un po più di di sostanza alle vicende perché ma come ho detto probabilmente perché vorranno svilupparli in futuro forse questo diciamo era un esperimento vediamo come va se va bene no 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 qui no qui qui mi dissocio perché la illumination della data prova che sapeva fare con singe io qui credo che abbiano voluto creare semplicemente un prodotto infantile e basta ma poi fare perché bastava veramente poco ripeto per dare qualcosa in più al film però ragazzi roma per tiro però guarda ho apprezzato la citazione siccome è crispratta a farlo in originale verso il finale che c'è la canzone diciamo dei titoli di testa di guardiani dalla galassia 2 che parte verso il finale no io guarda lo vorrei vedere in originale per sentire tutte le varie frasi che dicono in italiano sbagliato ecco un'altra cosa quella è una cosa insopportabile perché è vero sì il personaggio è di origini italiane bla 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 però veramente sì veramente si è ambientato a brooklyn sulla terra esatto poi nel videogioco non danno spiegazioni ma vabbè quella è un'altra cosa però veramente esagerano con i mamma mia e assi va bene il fatto che fanno con la mano sì con la mano mamma mia quanto gesticolano come credibilità degli italiani quelli sono dei cliché assurdi infatti non l'ho neanche infatti non l'ho neanche apprezzato in luca di erico casarosa che veniva sempre fatto questo gesto con la mano non lo so io l'ho detto anche all'epoca però ho detto vabbè sono piccolezze però dico anche il regista che era italiano perché si è fatto prendere in giro a fare queste animazioni stupide delle mani vabbè una cosa che non ho apprezzato nel doppiaggio italiano è la voce che hanno messo al padre di mario e luigi che è ma perché lo stesso charles martinet che da quel che avevo letto era lui a fare uno a fare alcuni personaggi nella nel nel gioco no quindi faceva se non sbaglio sia luigi che tutti gli altri alcuni altri adesso non ricordo quanti altri però insomma si che parlava un po così che non si capiva bene l'originalità italiana in quel caso non lo so avrebbero dovuto scegliere un doppiatore italiano lì invece hanno scelto proprio quello lì charles martinet che non è italiano quindi giustamente il risultato era quello no no ma anche io non ho diciamo da quel punto di vista non ho apprezzato granché questo fatto qui che parlasse un po così però vabbè nel senso è passabile per il resto il doppiaggio italiano è top sì sì non c'è niente da ridire poi vabbè ho apprezzato santa maria in un solo momento nel film dice it's me soltanto in un momento lo dice quindi no no però come detto anche tu forse hanno un poi hanno esagerato hanno fatto troppo hanno reso troppo eccessivo il mamma mia mamma mia viene sempre detto quindi lo so che è un marchio di fa e lo so so che è un marchio di fabbrica però da personaggio però insomma un po non è che venga utilizzato così tanto di tanto in tanto cioè qui veramente esagerano in realtà non è che ci sia tanto da dire perché c'è il film questo è sì sì un'ora e mezza di pura citazione al mondo videoludico e basta diciamo che come ritmo è abbastanza frizzantello cioè nel senso sì si lascia seguire molto tranquillamente senza che almeno io non mi sono annoiato nel seguire tutto quello che succede diciamo un po forzato che bowser ha quella stella lì per potenziarsi verso la fine non lo faccia però vabbè perché giustamente doveva usare mario esatto esatto e bowser che in originale è doppiato da jack black ah sì che tra l'altro ho apprezzato tantissimo scusami se ti interrompo ho adorato tantissimo i momenti in cui cantava pitch 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 ho adorato adorato la canzone è molto bella la canzone è molto bella ieri sera prima di andare a dormire e ho l'ho ascoltata in originale e è veramente top e veramente bella e infatti sono curioso di rivedere il film originale per sentire e poi tra l'altro parte anche nei titoli di coda c'è lui che la canta tutta e poi si scopre che è piccolino e quindi ah tra l'altro ecco forse questo è un errore perché io giustamente non è di ci mai giocato non lo sapevo non sapevo che i funghetti rossi erano per diciamo potenziarti mentre il funghetto blu era per rimpicciolirti non lo sapevo questo l'ho scoperto in questo film ma io non lo sapevo e quindi non lo so almeno spiegarlo dopo che cioè a spiegarlo prima che quello blu era per depotenziarti mentre quello rosso era per potenziarsi no cioè non lo so non ho apprezzato questo dettaglio perché non essendo un grande esperto non non so questo non sapevo questo dettaglio sì diciamo che allora a livello di citazioni in alcuni casi e il film funziona bene perché dà un'utilità agli strumenti nel senso e i cubi che distribuiscono monete qui vengono utilizzati come bancomat ok sì esatto esatto nel mondo dei funghetti i potenziamenti vengono usati effettivamente come potenziamenti in queste arene sì benché anche lì non capisco l'utilità delle arene ma è un mondo che si combatte ma va bene e vabbè i kong sono scimmie quindi dici vabbè combattono sai com'è sì ok ecco tutta la parte dei kong e dei kart bella ma totalmente inutile ai fini della della trama perché sostanzialmente peaches avrebbe potuto fare tutto da sola perché è vero è vero è vero super forte e diventa elsa di frozen con il potere del ghiaccio esatto potere del ghiaccio quindi vanno dei kong così perché vogliono citare mario kart e esatto adesso visto che me l'hai anche ricordato i fiori che danno questo fatto qui del fuoco del ghiaccio degli elementi non lo sapevo neanche questo per esempio quindi ho dovuto scoprire nel film stesso che esistono i fiori quelli che ti danno il potere del fuoco i fiori che ti danno il potere del ghiaccio che poi quanto pare serve ma non serve su bowser perché bowser essendo una tarta non lo so serve per far fuori le tartalughine piccole però lei congela bowser in un momento quindi non e lui rimane bloccato per un bel po poi vabbè si si sblocca perché lui è geloso e geloso e quindi si rompe tutto e comincia a fare casino ecco però non ho apprezzato la parte finale in cui si svolge a brooklyn perché non non so come sia post c'è come come quindi praticamente facendo esplodere il la il come si chiama il proiettilone che significa c'è nel senso il proiettilone esplode e magicamente tutto quello che stava nel mondo dei funghetti finisce nel mondo nostro come come funziona sembra come se manchi come come sembra come se mancasse un pezzo di di film non lo so io mi sono chiesto ma come tornano in quell'altro mondo esatto è un taglio netto da da quando sconfiggono bowser al dopo sì 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 ok ho capito che con il proiettilone finisce nel nell'interconnessione planetaria magicamente ci si ritrovano in brooklyn e implode fa implodere gli universi che collasso sembrerebbe tutti su a brooklyn ok mettiamola così sì mi aspettavo che poi il film finisse lì e dasse l'apertura al sequel perché ci può anche stare esplode questo proiettilone nel nel mondo di interconnessione e e vengono risucchiati tutti a brooklyn ok ma come fanno poi a tornare nell'altro mondo soprattutto eh l'astronave pianeta di bowser che è enorme esatto come fa a tornare di là cioè quelle piccole cose che potevano effettivamente spiegare davano che non hanno fatto ma non lo so sembra sembra come se avessero voluto volutamente chi se ne frega cioè hanno detto chi se ne frega nel senso facciamole basta io credo abbiano voluto fare così perché semplicemente hanno indirizzato il il prodotto a un pubblico infantile fregandosene di chi di alcuni dettagli potuto vedere il film tutto lì poi guarda io ho trovato molto forzato da questo punto di vista il fatto che le a lei gli è bastato poco eh non fare del male ai miei tod e lui dice allora mi sposerai sì subito cioè nel senso neanche non c'è stato neanche un minimo di sforzo che dici vabbè almeno ci combatto un po no niente proprio no no non fare del male ai miei tod sennò lui dice vabbè hai la mia parola ok sposiamoci vai ok lei non batte ciglio vabbè ok non lo so sì per questo non mi è piaciuto come personaggio perché la caratterizzano come emancipata forte intelligente ma poi boh nella sostanza gli basta poco esatto gli basta poco per cedere a un ricatto ok quando ecco cioè bastava semplicemente che si fosse presa un fiore prima e lo avesse congelato esatto 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 non ci aveva pensato ci avevamo pensato noi che siamo gli spettatori non lo so ti ripeto il film per carità come dici tu scorre veloce a me annoiato è coloratissimo poi cioè a me annoiato per queste piccole cose che potevano mettere in più per renderlo un po più fruibile a tutti piuttosto che solo un pubblico infantile sì magari è una cosa mia è però anche altri ho sentito che si lamentano il mio amico che era con me in sala non si è posto minimamente il problema gli è piaciuto tantissimo il film è buono dai bastava veramente poco magari togliere tutta la parte con donkey kong e riservare un altro film e caratterizzano magari esatto tenerselo a bada magari per un eventuale seguito sì esatto ma no io penso che l'hanno fatto di proposito inserirlo perché sai come la gente dice non mi accontento solo di super mario voglio vedere anche questo personaggio voglio vedere questo personaggio allora quelli hanno detto mettiamoli tutti insieme così la gente sta contenta e basta sì però a discapito un po dalla storia nel senso qui hanno fatto lo stesso errore che marvel disney ha fatto con no way home personaggi trascurare la sceneggiatura perché qui la sceneggiatura è inesistente vorrei aggiungere anche sony tra l'altro perché giustamente marvel disney e sony perché no way home ah sì sì esatto sì scusami e si deve mettere la mano sempre sempre leno e basta cioè in realtà noi potremmo chiudere qui perché sul film non c'è in effetti no non c'è niente altro a dire se non appunto che ci sono due scene post credit dove c'è bowser che sta pianificando sembra un modo per potersi vendicare con questa canzoncina pigis pigis in questa gabbietta per uccelli visto che è stato rimpicciolito che una soltanto delle due scene post credit e l'altra invece io non sapevo cosa fosse c'era nelle fogne praticamente i brooklyn si vede questo uovo che si sta schiudendo io ho detto sì però che cos'è poi sono andato a mi hanno spiegato sono andato anche a vedere che si trattava di di un uovo di uno yoshi e quindi ho detto ah bene quindi nel senso quindi sicuramente vedremo uno yoshi nel seguito ti dico a me è piaciuta più la prima post credit ma sì perché è molto più in linea con la storia ma più che altro perché yoshi l'avevano già citato in due scene durante il film una mentre viaggiavano per andare da donkey kong facendo vedere appunto gli yoshi ah sì è vero è vero e nel finale verso il finale durante il matrimonio hanno proprio inquadrato l'uovo ah ok già l'avevano mostrato secondo me era in più e si l'hanno fatto vedere che si schiude per carità quindi ci sarà effettivamente poi yoshi in un sequel però boh l'ho trovata veramente non mi ha detto esatto non mi ha detto niente come come scena post credit diciamo ecco ma ragazzi con questo mi salutiamo immaginiamo che l'abbiate già visto in sala a questo punto perché il tempo che verrà pubblicata questa puntata l'avrete già visto immagino non tutti però una buona maggior parte del pubblico l'abbia visto in sala e non facciamo altro che invitarvi a recuperarvelo nel caso non l'aveste fatto pieno zeppo di citazioni che forse può anche essere un difetto alla lunga però per gli appassionati è diciamo ottimo no perché così possono cogliere le citazioni dicono ah che bello io conosco quel personaggio che sta lì che sta lì che sta lì che sta lì giustamente sì sì ma forse hanno appunto ripeto esagerato con le citazioni perché un film solo di citazioni per me è troppo soprattutto per chi soprattutto per chi come me non è un appassionato e quindi non ha colto queste citazioni però sì esatto però vi invito comunque a vederlo perché sicuramente divertirà tantissimo ho visto io l'ho visto due volte al cinema e in ogni occasione i bambini si stavano divertendo un mondo assolutamente anche parecchi adulti perché sì il film ha dalla sua che da una parte è destinato ai bambini perché hanno voluto così però essendo un prodotto anni ottanta è destinato anche a chi ha vissuto da bambino e ci ha giocato quindi per questo io dico potevate metterci qualcosa in più a livello di sceneggiatura per rendere fruibile anche chi era bambino all'epoca perché non so ok magari tanti adulti oggi si possono comunque divertire con un film di soli estreg e di citazioni altri magari no quindi trovato un compromesso accettabile con questo vi salutiamo vi diamo appuntamento al prossimo video vi invitiamo a mettere like iscrivervi a condividere il video e il canale i canali e niente alla prossima ciao so fresh so new freedom it's all for you